Guarda Che è successo? Bello sta cosa, ah ok Ma cos'è un pallone di... cos'è stato? Ma che cazzo di coppa è? Ma è una coppa orribile Ma cos'è quella... Hanno rubato da una discoteca anni 70 C'hanno messo la palla che c'era nelle discoteca anni 80 Ma che merda è sta coppa? Ma che schifo è? No, veramente Poi, guarda tu il giocatore come... E tu cazzo fa già foto con il suo fotografo Lario? No, ma tu guarda come lo tenia in mano con la coppa Gli faceva schifo, pure i giocatori di tenerla in mano nella coppa del genere C'è una roba imbarazzante proprio Mamma che schifo Vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti